Su Viale Marconi a Pescara interviene il Consiglio di Stato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiede un'indagine conoscitiva e approfondita entro 120 giorni su tutti i progetti legati ai lavori fino ad oggi effettuati al fine di poter avere ulteriori elementi per giungere a una decisione definitiva rispetto al ricorso presentato dal Comitato Spontaneo di Residenti e Commercianti della zona. L'importante arteria aviaria di Pescara Sud continua dunque a essere oggetto di polemiche, revisioni e disagi a seguito del totale stravolgimento della viabilità. Sulla questione anche il sindaco di Pescara Carlo Masci si è detto disposto ad aprire un tavolo di confronto con cittadini e residenti e intanto questa mattina in Comune si sono riuniti amministratori e sindacati dei trasporti per analizzare la riorganizzazione della viabilità cittadina nella zona sud di Pescara che comprende appunto anche Viale Marconi. L'assessore Mascia ha convocato i sindacati dei trasporti per ragionare con loro sulle modifiche della viabilità a Portanova così come abbiamo fatto con i cittadini e alle associazioni di categoria dei commercianti la settimana scorsa perché c'è la possibilità di andare oltre il progetto. Oggi con l'apertura di via Benetto Croce verso il fiume quindi la creazione di questo nuovo asse viario parallelo a Viale Marconi e alla riviera con gli interventi su Portanova su altre strade i tre tratti della strada pendolo o il corridoio verde che si sta realizzando alle spalle dell'università la viabilità può essere modificata e quindi un ragionamento può essere fatto complessivamente lo vogliamo fare ascoltando tutti. Si è parlato molto di Viale Marconi cosa cambierà? Ancora non possiamo dirlo proprio perché vogliamo ascoltare tutti il processo di ascolto è essenziale in questa fase proprio per non commettere errori e andare il più possibile verso i desiderata dei cittadini. Quello che hanno chiesto i commercianti delle associazioni di categoria è certamente il ripristino dei parcheggi d'autostrada verso la carreggiata Monte. Su questo stiamo ragionando ma non vogliamo neanche creare problemi ai trasporti pubblici sapendo che il trasporto pubblico in questa città deve svilupparsi al meglio non dobbiamo mai dimenticare che a Pescara entrano 42 mila macchine al giorno e noi dobbiamo fare in modo che un giovane di Monte Silvano se vuole andare all'università ci possa andare attraverso un mezzo pubblico che viaggia sul percorso dedicato e che a tempi certi. Questo è l'obiettivo finale e l'obiettivo che tutte le città civili hanno per fare in modo di favorire un trasporto che sia il meno inquinante possibile nelle città.